Vi leggiamo ora il testo della replica aziendale. Non è in atto alcun ridimensionamento della testata giornalistica regionale e dell'informazione che questa capillare rete del servizio pubblico multimediale fornisce agli utenti. La RAI è la sola azienda editoriale del nostro paese che in questi mesi sta completando l'assunzione di 90 giornalisti i quali verranno assegnati proprio alla testata. Buona parte di loro potenzierà l'offerta di informazione locale via internet. L'eliminazione dei quattro minuti dell'edizione notturna è una semplice razionalizzazione che riduce spese senza compromettere in alcun modo l'informazione. È previsto un presidio giornalistico notturno nelle sedi regionali. Notizie di rilievo della notte potranno come adesso essere trasmesse in tv su scala nazionale da RAI News 24. Vi lasciamo a TG2 e post.